musica ragazzi finalmente un nuovo episodio non ho smesso di fumare ho ricominciato la mia nostra sigaretta è quando non fumo allora ragazzi prima c'era Gabriele con sigaretta in ufficio poi c'è Mirko con sigaretta con dottore oggi è tornato il mio amico come vi ho spiegato nel video dell'emerit quello precedente quello di ieri che è tornato il mio amico da un safari in Africa ed è tornato perché vuole tornare in Italia per fumare ecco qui che ti è benvenuto a Baldassarre quasi dimenticato è un personaggio un po' strano ambiguo non fate così niente di saggio lui venire in faccia si muoverà cadrà scuoterà la testa e a volte a volte urlerà quindi calma iniziamo con le domande allora Baldassarre come stai? grazie per avermi invitato dunque spiegaci perché sei tornato da questo safari in Africa non c'erano sigarette e quali sigarette vorresti fumare qui in Italia? Manchester se non erro sono illegali prova queste altre e Baldassarre prova queste qua dai andiamo queste sono legali ti piace? piace Baldassarre ma che fai? devi chiuso Baldassarre oh fuma Baldassarre vabbè Baldassarre dove vuoi sapere mi vuole prendere in giro oggi comunque vi ho detto non fallisci caso comunque è un tipo abbastanza strano questa trasferta l'ho cambiato molto non ricordavo così facciamo una carta domanda vabbè e quale sigarette preferiresti fumare? ottima scelta e cosa pensi del tabagismo? quale consiglieresti ai miei iscritti? vabbè c'è anche qualcuno che ti serve tu ad esempio dunque a me allora cari iscritti questo video si conclude così cliccate mi piace condividete vediamoci nel prossimo video iscrivetevi attivate la campanella e fatemi fatemi sapere tutto qua sotto fatemi sapere tutto qua sotto